questo è un guante di padezza, ve ne accoglialete, lo spazio proprio che c'ha non ce l'hai da te, va, va, va lo vedi là, è il buro dove non c'è palarete faccia così, vedete, ha un capo che per esempio le cammina ha tutto tutto così, così qui, trina e trina proprio lì la pista è più grande 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 è più grande la pista 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 è più grande Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.